Seppellisci ignomi a parco pacifico o a corso commercio è l'ultimissima sfida di queste sfide Settimana numero 5 ovviamente le più difficili ve lo portate qui sul canale E ragazzuoli questa sfida in realtà è praticamente a parco pacifico la stessa di seppellire gli ignomi da forte frattere a parco pacifico Difatti qui a parco pacifico le location si troverà degli ignomi teoricamente o qua Quindi esattamente qui oppure esattamente dove c'è quell'alberello qua perché sono solo queste tre le location qui a parco pacifico Mentre a corso ci sono due nuove location questa qua ragazzi e infine quella là dove c'è la casetta rossa Queste ragazzi sono le tre location teoricamente dove dovreste trovare almeno in una di queste tre posizioni l'ognomo Che si trova appunto qui a parco pacifico addirittura forse se la missione dovrebbe essere come la stopper dire io Dovreste addirittura trovarne due direttamente qui appena appunto la missione vi comparirà Perché teoricamente è a fasi e giustamente dovete prima completare le altre Per esempio la missione di seppellire gli ignomi da forte frattere a parco pacifico Quando l'avete completata verrà sostituita quindi gli ignomi che ci saranno lì verranno sostituiti dagli ignomi Che arriveranno nella missione seppellisci gli ignomi cioè questo è quello che vi sto portando in questo esatto video In ogni caso ragazzi andiamo a vedere una probabile location è questa qui dove tra l'altro c'era l'XP blu Mentre le altre due ragazzi dovrebbero essere sicure quindi una potrebbe ripeto potrebbe essere esattamente qua un altro ignomo Quindi questa realtà è semi insicura non è detto che sia così perché probabilmente appunto una volta che andrà via l'XP coins Come vi ho appena detto si andrà a riformare diciamo invece che l'XP blu sia da riformare lo ignomo per questa missione qua Perché appunto essendo a fase in ogni caso ragazzi il secondo comunque il primo un altro insomma si troverà sicuramente Secondo me qua di fianco a questo fiore qua praticamente basta prendere in considerazione questa casa gialla Qui c'era appunto la possibile location del primissimo luogo qui a Corso Commercio Andate qua e questa dovrebbe essere assicurata Difatti vediamo appunto la buchetta nera La terza invece e ultima qui a Corso Commercio è esattamente dove c'è quella casa lì blu La primissima questa qui di Corso Commercio in alto a sinistra ragazzi Esattamente anche qui in questo caso non di fianco a questo qua a questo fiorecello ma di fianco all'alberello Difatti ecco qua la location precisa Quindi signori queste qui sono le location abbiamo appunto questa la location lì della casa gialla che non è sicura E abbiamo poi la location lì di fianco al fiorecello qui a Corso Commercio Quindi signori io spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia stato anche utile Quindi signori mi raccomando se così è stato lasciate un bel pollicione lì su condividete questo video con tutti i vostri amici E quindi signori let's freaking go codice lucio Scrivetevi qui sotto nei commenti se alla fine la location era il giusto e quella che vi ho fatto vedere in questo esatto video Bene ragazzuoli spero proprio di si e niente signori ci vediamo Ciao 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 Ciao